Sono dispiaciuto perché per un misunderstanding sugli orari, siccome di là sono impegnato a girare una serie di interviste ai vari relatori, ho mancato il momento del ricordo a Sergio Stagnaro e sono arrivato in un orario in cui era già stato fatto e sono sinceramente dispiaciuto di questo perché per me Sergio era una persona molto importante. Perché poi la mia relazione sulla medicina mitocondriale che mi ha segnato Giorgio, 20 minuti è un'inezia, cioè io ho fatto un corso negli Stati Uniti con l'Istituto Financial Medicine sull'energy, la medicina mitocondriale dura tre giorni, quindi capite che in 20 minuti vi darò degli spot, qualcosa così, però poi voglio avere lo spazio proprio per raccontarvi un aneddoto che riguarda me e Sergio perché posso dire che alla fine Sergio mi ha praticamente salvato la vita. scusatemi non riesco adesso mi riprendo, mi riprendo, mi riprendo, mi riprendo e so anche che lui mi voleva molto bene, me l'ha dimostrato più volte, io non so perché, perché non penso di aver fatto niente per meritarmi una benevolenza da una persona così importante, da veramente un genio da qualcuno che è stato mandato su questo mondo da un'entità superiore, io di questo ne sono convinto, però chi non l'ha conosciuto magari può sembrare che siano frasi così ma in realtà è così. Comunque, boh, allora mitocondrio, allora mitocondrio è ovviamente importantissimo perché il mitocondrio come sapete è praticamente la powerhouse della cellula, è la sede dove viene è prodotta l'energia, l'ATP, cioè quindi è in grado di darci quell'energia necessaria per aspettare tutte le funzioni vitali e quindi quando ci sono dei danni, delle disfunzioni a livello mitocondriale, queste si ripercuotono su tutte varie problematiche, disturbi del sistema immunitario, il cancro, disturbi metabolici, si è visto ormai che anche il diabete tipo 2 è legato a una disfunzione mitocondriale, malattie cardiovascolari, l'invecchiamento, le malattie degenerative in genere, vedremo poi proprio come anche le malattie di tipo neurodegenerativo, ormai si è visto che hanno una base a livello proprio di un danno a livello mitocondriale, quindi causano un problema del mitocondrio, si traduce appunto in sintomi come infiammazione, fatica, resistenza insulinica, le funzioni del mitocondrio sono molteplici, funziona come anche un effetto tamponante, gli ioni calcio, mantiene il gradiente degli ioni, è in grado appunto di modulare il discorso dei radicali liberi, produce sia antiossidanti ma che radicali liberi stessi che vengono poi utilizzati eventualmente soprattutto alle cellule del sistema immunitario per esempio per difenderci dell'aggressione del virus e batteri ma soprattutto produzione di energia, cioè pensate che noi produciamo addirittura 70-80 kg di ATP che è la molecola energetica per eccellenza del nostro corpo ogni giorno, ok? E quindi come la medicina funzionale si inserisce in questo discorso per tutelare la salute mitocondriale? In quello che viene definito in medicina mitocondriale mitoplane, mitofoodplane, cioè soprattutto con l'alimentazione, tante altre cose, non parlerò dell'attività fisica che è per esempio senza altro la mia competenza e senza altro l'attività fisica stimola la biogenesi mitocondriale a livello delle cellule, soprattutto i muscoli, chi si allena ha più mitocondri e le mitocondri appunto abbiamo già detto quanto sono importanti. E quindi però tramite l'alimentazione noi ingeriamo proteine, cibi, carboidrati e tutte queste sostanze vengono metabolizzate poi comunque in fase finale nel mitocondrio per produrre energia. E quali sono gli approcci della medicina funzionale per tutelare la salute mitocondriale? Allora l'apporto di nutrienti anti-infiammatori, l'apporto di antiossidanti, una dieta soprattutto alta in grassi, grassi che poi vedremo soprattutto buoni, cioè non magari grassi saturi di origine animale, con un basso impatto glicemico, una riduzione quindi delle calorie che può arrivare fino alla cosiddetta dieta mima digiuno di Walter Longo o all'intermittent fasting o eventualmente la dieta chetogenica. Queste sono opzioni che possono essere diciamo prese in considerazione dal nutrizionista. E inoltre anche in medicina funzionale assolutamente viene raccomandato l'eliminazione o la limitazione, cioè il low, dei cereali, del frumento soprattutto per l'apporto di glutine. Quindi in questo senso anche magari l'eventuale scelta di frumento a basso contenuto di glutine perché sappiamo che il frumento moderno è particolarmente ricco di glutine, otto volte più del frumento antico e in più la maggior parte del frumento di cui noi disponiamo oggi è frutto di coltivazioni intensive che utilizzano i glifosati come pesticidi che sono sostanze che potenziano l'effetto negativo del glutine a livello dell'epitelio della mucosa intestinale favorendo il cosiddetto liquigatto o intestino permeabile come fasano ampiamente dimostrato. Quindi praticamente esiste questo piano mitoterapeutico mitocondriale tramite i cibi dove gli antiossidanti devono senz'altro tramite l'alimentazione essere forniti da nutrienti naturali che fondamentalmente sono verdura, frutta, possibilmente scegliendo di tutti i colori perché i vari differenti colori corrispondono a fitonutrienti antiossidanti diversi e gli antiossidanti come sapete contrastano i radicali liberi. Nello stesso tempo non bisogna esagerare con l'utilizzo degli antiossidanti perché una moderata, una certa produzione di radicali liberi è importante nel nostro organismo perché è in grado di dare uno stimolo chiamato ormesi, quindi in questo caso mitormesi, una stimola a livello mitocondriale per far produrre a livello del mitocondrio stesso gli antiossidanti di origine naturale e noi sappiamo che per esempio nel mitocondrio viene prodotto soprattutto la superossido dismutasi che è un potenzissimo antiossidante e anche l'illutertione. Quindi ci deve essere un equilibrio, cioè come sapete noi in medicina cinese, yin e yang, cioè ci deve essere un equilibrio tra anche produzioni di antiossidanti e inibizione della produzione dello stesso, cioè inibizione dei radicali liberi da parte degli antiossidanti ma la produzione dei radicali liberi è necessaria per la vita stessa. Ho fatto prima l'esempio che le cellule del sistema umitario utilizzano i radicali liberi per distruggere i virus e i batteri. Ecco quindi praticamente come vedete questo è una risposta a uno stress ossidativo e vedete che se c'è uno stimolo di radicali liberi di stress ossidativo leggero moderato si attiva la via NRF2 che è una via che stimola, che è un effetto antinfiammatorio e stimola la biogenesi mitocondriale. Viceversa se l'infiammazione diventa importante, diventa praticamente alta, c'è un'attivazione dell'NFKB che è il mediatore principale dell'infiammazione, quindi si attivano le vie dell'infiammazione, cose già viste anche ieri. E quando l'infiammazione diventa troppo alta allora abbiamo anche una incentivazione nei confronti dell'apoptosi che favorisce la degenerazione fino alla morte delle cellule che se per esempio avviene a livello cerebrale non è positivo perché corrisponde appunto a una morte cerebrale che porta più velocemente alla malattia di tipo neurogenerativo. Come ho detto prima, i piccoli, gli stress moderati favoriscono l'attivazione di questa DNA. Quali sono questi stress moderati? Sono appunto dati dal digiuno, per esempio il digiuno intermittente, la restrizione dei carboidrati, la restrizione calorica in genere, qui parliamo di cibo ma non mi voglio sempre ricordare anche l'attività fisica e poi anche dei micronutrienti particolari come la curcumina, il tè verde, il resveratrolo, il sulforafano, l'aglio, il decose esanoico che è un omega 3 specifico. Quindi antiossidanti però devono essere appunto dati in maniera corretta altrimenti andiamo ad inibire troppo anche queste vie leggermente stimolanti normesi che favoriscono la produzione dell'RNF2 che invece è appunto questo fattore positivo. Quindi antinfiammatori, anche cibi antinfiammatori che poi spesso coincidono con anche gli stessi cibi ricchi di antiossidanti, però alcuni cibi hanno un effetto più antinfiammatorio, pensiamo alla curcumina citata prima, pensate allo zenzero, pensate agli omega 3, sono alimenti con conosciuti effetti antinfiammatori e che quindi assolutamente devono essere presi in considerazione. Non mi soffermo su questa slide che fa vedere il pathway dell'infiammazione e della produzione di energia. Come vi ho detto anche grassi, quindi una dieta più ricca di grassi, però grassi di alta qualità. Quindi quali sono questi grassi? Sono soprattutto, appunto abbiamo già detto, gli omega 3. Innanzitutto gli grassi, vedremo poi, richiedono anche l'apporto di carnitina, perché la carnitina è fondamentale per far passare gli acidi grassi all'interno del mitocondrio, dove poi possono essere ossidati a scopo energetico. E gli omega 3 sono importanti perché migliorano la fluidità della membrana cellulare, altrimenti questo passaggio è reso più difficoltoso. Altri grassi che hanno un effetto positivo sono per esempio gli acidi grassi a catena media, come per esempio i medium cetri gliceris, come quelli che derivano dall'olio di cocco, ricchi di acido idrossimetilbutirato. E di conseguenza anche questo, pur essendo un grasso saturo, però è un saturo che contiene acidi grassi a catena media soprattutto, ha un effetto positivo, perché praticamente favorisce proprio la salute della membrana mitocondriale interna. Sapete che il mitocondrio ha due membrane, in realtà spesso non viene detto, ma è proprio una caratteristica particolare del mitocondrio. E come ho trovato molto veloce, proprio perché poi dopo voglio soffermarmi di più su quell'aspetto aneddotico che riguarda Sergio, che vi ho accennato prima. Sette minuti. Esatto. E poi ci via basso impatto glicemico, cioè sapete come la glicemia, alzandosi, crea delle problematiche, crea fenomeni di glicazione, crea quindi un effetto praticamente simile a radicali liberi, ha un effetto neurotossico. Sappiamo ormai che il diabete è collegato a una disfunzione a livello mitocondriale, quindi la riduzione di carbodati con la dieta chetogenica è particolarmente utile, utilizzata in certe patologie specifiche, magari come anche i problemi di tipo neurologico, Parkinson, Alzheimer, quando c'è una resistenza al dimagrimento causato appunto dalla resistenza insulinica, anche nella fibromialgia, nella fatica cronica, e la dieta chetogenica migliora appunto la funzionità mitocondriale, questo avviene tramite l'effetto dei chetoni che hanno un effetto specifico a livello dei mitocondri, qua ci sono delle ricerche recenti del 2023 dove dimostrano che la problematica nel Parkinson e nell'Alzheimer sono proprio legate a una disfunzione a livello mitocondriale, nell'Alzheimer si è visto proprio che è dovuto per esempio anche a una disfunzione a livello mitocondriale nella produzione di sod superossido di smutasi, quindi in questo caso viene da pensare che potremmo aiutare questa situazione con l'utilizzo di integratori come il Chaga che sono particolarmente ricchi di superossido di smutasi. L'intermittent fasting è la dieta mima digiuno, non entro interne nelle modalità di esecuzione di queste perché comunque dovrebbero essere conosciute dai più che hanno un effetto di stimolazione anche del BDNF che è il brain deriving neurofactor cioè fattore di crescita a livello nervoso che viene tramite sempre l'esercizio fisico, vi ricordo anche la meditazione, restrizione carolica, qua ci sono degli esempi di restrizione carolica sia per l'uomo che la donna, poi queste slide vi saranno date, dieta mima digiuno come ho detto, poi integratori come la solfadenosine metionina, importantissima, importantissima proprio perché è un agente metilante, la metilazione dipende moltissimo dalla metilazione sostiene la produzione del glutatione a livello mitocondriale, la carnitina ho già detto che per far passare gli acidi grassi a livello di mitocondriale produrre energia, l'acido lipoico che fa parte del compresso piruvico di etrogenasi e anch'esso è un precursore o comunque collabora alla produzione di glutatione a livello mitocondriale, c'è il food, sono degli studi dove si è visto che per esempio è in grado di migliorare la disfunzione endoteliale che è causata proprio da una disfunzione mitocondriale che è favorita da una ipossia. Quindi qual è la terapia con integratori per poter supplire il supporto mitocondriale? Con enzima Q10, N-aceticisteina, glutatione, probiotici, SAM, sulforafano, tiamina, riboflavina, giacina, peridoxina, folate, vitamina, meditogi, metilata possibilmente, biotina, creatina, carnitina, arginina, magnesio, cell food, antiossidanti, K2, melatonina, ecco, ovviamente tutte queste cose, beh in questo caso per esempio S-Drive, cioè il test cell welding ci può aiutare molto perché noi facciamo il test, ci indica che ci sono delle carenze di certi antiossidanti, proprio in maniera specifica, di certe vitamine, minerali e agiremo soprattutto con quelli. Quindi vedete come già questo test ci permette veramente di personalizzare molto l'intervento che altrimenti avremmo veramente un arsenale a nostra disposizione che potrebbe essere difficile da operare una scelta. Ecco, qua voglio arrivare al discorso di Stagnaro, di Sergio, che è stato nei miei confronti così generoso, vedete, alla fine, lui è famoso per il concetto suo, praticamente la semiotica biofisica quantistica che è basata su dei, praticamente, dei test di percussione ascoltatorio dove è in grado di evidenziare determinate problematiche che poi dopo lui, e poi l'uso del fonendo, che poi dopo lui è in grado di eliminare con la terapia ristrutturante mitocondriale quantistica, perché queste problematiche a livello mitocondriale derivano dal DNA materno, che è del DNA mitocondriale materno. Poi vedremo in cosa consiste questa terapia quantistica mitocondriale. E lui mi ha dedicato un nuovo segno e quindi per me è stato veramente un onore grandissimo. Ma da dove è iniziato il mio rapporto con Sergio Stagnaro? È iniziato un giorno in cui io mi sono in contatto con Giorgio sotto il mio ufficio. Noi allora avevamo in essere con la mia scuola proprio il corso di medicina mitocondriale. E quindi ci eravamo trovati per fare la programmazione del nuovo anno. Io però poco prima ero andato come tutti gli anni a fare l'elettrocardiogramma da sforzo, perché io ho la pretesa di allenarmi ancora come un atleta agonista. Però giustamente faccio la prova da sforzo ogni anno. E quell'anno lì praticamente il mio amico cardiologo mi rileva un livellamento del tratto ST, che sapete che è indicativo di un'eventuale ischemia legato magari a un'ostruzione coronarica. mi dice ma tu hai dei segni, hai dell'angelo? No, io non ho niente, sto bene. Guarda sarebbe bene che tu facessi un'indagine supplettiva, vai magari a fare un'attacco coronarica. Ah beh certo, ci vado subito. Vado a fare l'attacco coronarica al monzino, responso, ostruzione coronarica del ramo dell'arteria discendente destra, 70%. E cazzo, 70%? Porca miseria. Sento dei miei amici cardiologi, ma senti così, devi fare subito la coronografia, perché se per caso è il 75% e sai l'attacco non è così precisa, ti devono far subito lo stand, cioè il palloncino, perché sei a rischio di infarto. Ok. E io no, io la coronografia non la faccio, perché se anche mi trovano il 75% e mi fanno il palloncino, io il palloncino non lo voglio fare, perché secondo me non serve a un tubo. Cioè nel senso tu mi fai il palloncino lì e poi dopo un anno o due anni mi viene un'istruzione coronarica in un'altra arteria. Io devo capire il perché ho avuto questa cosa qua. Devo capire il perché e nell'analisi del perché è l'alimentazione? No. L'attività fisica? No. Non uso degli integratori funzionali? No. Cos'è che può creare questo problema? Dalla letteratura. Lo stress. Era un periodo in cui facevo le visite tutto il giorno nel mio studio medico, che poi avevo una rivista, gli speciali dell'accademia che gestivo e quindi avevo persone che seguivano la redazione, ma alla fine io dovevo anche telefonare le aziende a chiedere che facesse solo la pubblicità. Per me è uno stress enorme perché significava chiedere soldi, non sono abituato. Poi la stessa scuola mi portava a tenere relazioni o comunque essere presente tutti i weekend quando non andavo ai congressi di altri che mi invitavano. Insomma io ero impegnato sette giorni su sette continuamente. E allora io dico no, qui il mio problema è lo stress. E quindi comincio a dire devo intervenire sulla riduzione dello stress, quindi devo cominciare a dire di no, devo cominciare a tagliare. Chiamo, da lì nasce il mio check up anti-aging completo dove inserisco anche l'HRV, l'amministrazione dell'Heart Rate Variability, dove chiamo quelli dell'azienda che me lo portano, me lo misurano. 100% attivazione del sistema simpatico. Si fermi, ma non faccia niente, lei ce le viene un infarto da un momento all'altro, non abbiamo mai visto un test così. Lo possiamo far vedere ai congressi? Sì, però non dite che è mio perché spattini il curo del benessere. Ok, no, allora bene, quindi comincio e anche con lui dico, Giorgio, guarda, io ho fatto un test, ho fatto l'elettrocardiogramma, ho qualcosa, non gli dico ho già fatto l'arteriografia, ho il 70%, eravamo nel bar, nel mio ufficio. E lui mi fa, vuoi che ti faccia fare la visita da Sergio Stagnaro? Io l'avevo conosciuto perché lui aveva già organizzato un evento dove c'era andato e lui aveva parlato appunto della tecnica della percussione ascoltatoria, eccetera, che era molto interessante, ma per poi applicarla ci vuole studi, pratica, eccetera, però mi era piaciuto molto il personaggio. Certo, come no? Mi devi prendere l'appuntamento? Mi fa, no, ti faccio una foto. Ti faccio una foto e gliela mando. Come gli fai una foto e gliela mandi? Sì, perché lui guarda la tua foto, guardando la tua foto lui entra in risonanza, in frequenze, con la tua foto e lui diventa te. Visita se stesso con la sua tecnica palpatoria, ma è come se visitasse te. E' un cazzo, ma è voodoo questo qui, però, a parte che il voodoo esiste, non c'ho niente da rimetterci, cioè certo, ok, mandiamo la foto. Considerate che lui non sapeva quello che io avevo, tantomeno Sergio. Gli manda la foto, arriva il risponso, era uguale all'attacco coronarico, uguale, identico. E mi manda la sua terapia. Ovvio che io di fronte a una cosa di questo genere l'ho fatta la terapia, eh. Non è che... Esatto. Ho fatto la terapia, poi lì è nata un'amicizia, ci siamo visti altre volte, eccetera. Poi morale della favola, dopo alcuni passaggi, ovviamente io ho fatto la sua terapia, poi ho fatto il cambio di stile di vita, ho ridotto, ho chiuso l'accademia in me, ho chiuso la rivista, ho cominciato a fare studio medico solo mezza giornata, insomma, ho cominciato a gestire, ho cominciato a fare meditazione, che prima non facevo e che faccio tuttora, tutti i giorni, tutte queste cose qua. Morale della favola, quando avevo fatto la prima TAC coronarica, ero stato inserito in uno studio longitudinale, mi chiamano, io ho fatto le verifiche nel frattempo, ma dopo cinque anni mi richiamano per dire, guardi, lei è in questo studio, dopo cinque anni mi chiamano, scusi, lei ha avuto un infarto? No. Ha fatto il bypass? No. Ah, no, no, eh? Ah. Allora, guardi, comunque lei, in questo studio, può venire di nuovo a fare la coronografia per vedere com'è la situazione. Ci vado, faccio la coronografia, assenza di ostruzioni coronariche. Assenza. Mi confronto poi al cardiologo chiamando, scusi, ma questo qui, no, non è possibile, perché è una patologia cronica, è una patologia cronica progressiva, non può, scusate, me l'avete fatto voi l'esame al Monzino, me l'avete rifatto voi, insomma, abbiamo discusso un po', i toni si sono anche alzati, io mi aspettavo che lei mi chiedesse per cosa ho fatto, per non dire, ma vabbè, comunque. Morale della favola, così è stato. Allora, a questo punto io vi do, qua, a vostra disposizione, la terapia quantistica mitocondriale ristrutturante di Sergio Stagnaro. Non so quanti di voi già la conoscono, però è molto facile, si tratta di prendere una bottiglia d'acqua con un cucchiaino di bicarbonato, mezzo litro d'acqua, metterla sul comodino del letto, dove dormite di notte, poi di fianco alla bottiglia mettere tre bicchieri d'acqua naturale, normali, così, ok? Perché vengono informatizzati da quell'acqua che è lì col cucchiaino di bicarbonato. Al risveglio e durante la giornata dovete bere questi tre bicchieri d'acqua, aggiungendo una punta di cucchiaino di bicarbonato di sodio, sette gocce di succo di limone e otto gocce di shell food e agitandola, direi in senso anti-orario, visto? Anti-orario, per creare lo spin specifico energetico di cui ci hanno parlato ieri, ok? Quindi, possibilmente nel comodino anche una bottiglia di succo di noni, ok? Che contribuisce ulteriormente a creare una condizione di salute. Ecco, quindi il consiglio è di fare questo protocollo per almeno nove mesi, ma tanto ve la manda poi, nove mesi, però si può fare anche di più. Io sono sette anni che la faccio. Prima tutti, i primi nove mesi, tutti i giorni, andavo in America, andavo tipo a un congresso così, mi portavo la mia bottiglietta d'acqua, me la mettevo sul comodino, eccetera. Adesso magari se vado via due o tre giorni non lo faccio, però quando sono a casa lo faccio sempre. In più, Sagnar successivamente ha anche detto che è particolarmente interessante aggiungere anche 10 gocce di silica plus, sempre della Cellfood, perché ha un effetto istangiosseo, ricalcificante e quindi un ulteriore effetto positivo. Quindi voi avete questa terapia, se volete utilizzatela, io la utilizzo ancora. Vi ricordo anch'io la scuola di alta formazione, che credo che quest'anno sarà la quinta edizione, però il secondo livello, quindi ho visto che si sono aggiunti anche docenti di una taratura incredibile, io mi fregio di essere addirittura nel comitato scientifico, però appunto ci sono docenti veramente di livello, quindi chi parteciperà avrà veramente un livello di nozioni incredibili per poter esercizare la sua professione e in più questi sono i miei libri più inerenti a quello che ho parlato oggi, cioè il discorso del mitoflude, del piano di ristrutturazione mitocondriale e anche il controllo glicemico che è molto importante in questa logica, li potete trovare qua fuori e grazie, ricordatevi che l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri. Grazie.